segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te buonasera roberto e bentornato grazie mille solo è il coraggio giovanni falcone il romanzo è un splendido romanzo basato su fatti veri su documenti sulla vicenda di un uomo coraggioso però non possono partire da mariupol qui c'è comunque la storia di una resistenza pazzesca coraggiosa che sembra impossibile no è proprio così sai prima ti ascoltavo e dicevi cosa potevamo fare è lì la questione per anni per esempio l'europa ma devo dire la comunità internazionale ha lasciato soli i reporter ha lasciato soli anche i ragazzi di piazza maiden e la paura che il regime russo ha della democrazia nata a maiden la rivoluzione arancione è evidente i paesi baltici non hanno mai fatto paura nonostante la nato quanto la rivoluzione arancione eppure per esempio quando ogni anno veniva ucciso per circa dieci anni almeno un giornalista della novaia gazzetta non c'era dibattito non c'era tutt'altro infatti anzi diffidenza spesso diffidenza e poi le destre nel senso che la destra italiana la destra francese e prone prona a putin non solo nell'alleanza diplomatica ma nella propaganda cioè mi spiego la strategia per esempio della merkel qual era in qualche modo paghi il tiranno controlla il tiranno da una parte accogli navalni avvelenato a berlino cosa che l'italia per esempio non certo proposta di fare dall'altra però chiudi importanti accordi quindi da un lato sostieni ed è stata una dottrina che a oggi non ha funzionato cioè in questa fase non ha funzionato non è vero che pagando un tiranno controlla il tiranno anche se nel dibattito tedesco si dice con la merkel putin non avrebbe mai fatto una cosa del genere non ne ho idea per capire per valutare questo però è il punto è questo è questo che lui non ha mai fatto finta di essere diverso da ciò che mai putin ha sempre svelato il suo volto di dittatore di uomo che reprimeva il dissenso che faceva uccidere chi non la pensava come lui e chi era pericoloso per il regime però noi diciamo siamo stati anche in italia anche a un livello diciamo quasi non vorrei dire di ingenuità ma quasi grottesco amici di putin no cioè se noi mi fate vedere la fotografia di zelensky che parla nel parlamento italiano no non so se ce l'abbiamo barbara ma ce la ricordiamo tutti insomma gli applausi per zelensky ma dentro dentro questo parlamento quanti sono gli amici di putin anche coloro che probabilmente ma questo lo vedremo nel tempo almeno qualcuno ha avuto il buon gusto di non andarci perché era ma tanti ci sono andati certo ma anche dicevo appunto su merkel la differenza cioè se da un lato c'era il rapporto diplomatico il rapporto economico o ugualmente grave da questa parte c'era il rapporto politico cioè putin veniva utilizzato come modello cioè per intenderci quando viene in sardegna 2008 se non sbaglio putin con berlusconi c'è una giornalista novaia gazzetta che fa una domanda a putin e berlusconi mima il gesto del mitra forse ce l'abbiamo questa fotografia eccola qua due anni prima era stato ucciso a napoli toscaia cioè quel gesto che chiaramente crede essere ironico certo abbeffeggiare come dire vedi puoi fare qualsiasi domanda al presidente putin era stato ucciso una giornalista il giorno del compleanno di putin putin aveva quella morte l'aveva descritto stretto a risponderne in germania dirà non faceva alcun danno da viva quindi da morta è più fastidiosa per la russia non mi conveniva conveniva uguale come con navanni non dice la russia non avvelena dice se avessimo voluto farlo l'avremmo fatto e questo significa che in realtà c'era proprio un'adesione ma attenzione quando meloni si complimenta con le ultime elezioni vinte da putin farà un comunicazione dove dice un giudizio inequivocabile falso perché perché non c'era data non era data la possibilità all'opposizione di presentarsi navanni non ha potuto candidarsi quindi non è un giudizio inequivocabile quando l'opposizione non può essere davvero presente non solo ma mentre lui continuava ad ammazzare in italia non c'era dibattito su questo se attenzione una parte si era molto attiva ricordo che al funerale di napoli tosca c'era un solo politico italiano marco pannella nessun altro per esempio e devo dire che colpiva che ogni volta che un oppositore veniva abbattuto letteralmente da putin nella nella destra italiana la destra di salvini che indossa la maglietta sulla piazza rossa berlusconi che parla di putin come un dono di dio persino grillo che all'inizio sul suo blog posta il libro proprio di napoli toscaia poi cambia idea nel percorso politico e dice che è uno statista che è una figura necessaria per l'equilibrio mondiale è tutto questo quello su cui io sto ragionando diciamo in questi mesi ma è un grande abbaglio o è un calcolo di convenienza assolutamente da un lato c'è un calcolo di convenienza attenzione da una parte chiaramente politico economico putin ha elargito danaro in tutta l'europa tutte le posizioni diciamo con populiste ma c'è anche un calcolo di consenso e qui è la domanda che ci poniamo ma perché quando io faccio un posto insomma noi lo facciamo sotto abbiamo gente che difende putin o assad e qua bisogna andare a fondo e il meccanismo è questo se io non mi sento rappresentato da questa democrazia non mi dà lavoro chi ci sta guardando magari sentendosi frustrato isolato ci considera ipocriti si parlate parlate però voi siete privilegiati tutto ciò che sembra negare questo inizia a starti simpatico cioè sei contro assad allora io difendo assad c'è state attaccando putin allora qual è il problema di tutta questa storia che se io voglio criticare questa democrazia voglio qualcosa di meglio non voglio fare un passo indietro se non sopporto biden o la democrazia così com'è in europa non è che devo scappare nei regimi per risolverla però la cosa tu nominavi anna politkoskaya noi abbiamo intervistato la figlia di anna politkoskaya vera l'ha intervistata sarà giudice è impressionante perché questa donna oggi viene lodata da tutti viene considerato mito tu tra l'altro è fatto un bellissimo ritratto nel libro precedente gridalo proprio di anna politkoskaya no e di come si cercò di delegittimarlo infangarla completamente per toglierle ogni credibilità come giornalista però in realtà appunto di questa quando lei morì come dici tu al funerale c'era soltanto marco pannella sentiamo la figlia vera che non è più in russia per motivi di sicurezza mia madre ha combattuto tutta la vita per poter fare il suo lavoro da giornalista libera ha scritto e denunciato lo strapotere del cremlino la corruzione dell'esercito l'impossibilità di poter esprimere liberamente un pensiero ha documentato in prima linea le atrocità della guerra in cecenia le violazioni dei diritti umani quel giorno salutate sono uscita me la ricordo sull'uscio ci siamo anche parlate al telefono dopo di che quella mia sensazione e non ha più risposta alle mie telefonate le hanno sparato tre colpi di pistola nell'ascensore del palazzo dove vivevamo non abbiamo mai avuto giustizia per il suo omicidio i mandanti non sono mai stati individuati molte supposizioni si sono tragicamente avverate su come putin avrebbe trascinato la russia nell'abisso e l'avrebbe allontanata dalla democrazia se potesse guardare adesso quello che sta succedendo credo che sarebbe sconvolta il giornale dove scriveva sua mamma la novaia gazzetta ha sospeso le pubblicazioni il giornalismo in russia disintegrato se prima qualcuno provava a difenderlo da quando è cominciato questo conflitto posso semplicemente dire che non esiste più come racconterebbe sua mamma quello che sta succedendo in ucraina mia madre aveva radici ucraine sicuramente sarebbe stata in prima linea a raccontare il conflitto dalla parte dei più deboli come quando stava in cecenia le avrebbe dato il nome che merita senz'altro l'avrebbe chiamata guerra la maggior parte dei russi sono favoribili alla guerra così dicono i sondaggi di putin i sondaggi di putin non possono essere ritenuti credibili anche se devo riconoscere il fatto che esiste una parte della popolazione russa che sostiene questa guerra per quanto sia triste dirlo ma non mi stupisce i russi sono quotidianamente bombardati da notizie false da un fiume di propaganda dal quale è difficile uscire con un'opinione diversa come si può costruire una propria idea in un contesto del genere stiamo parlando di un paese dove la gente che protesta in strada con dei cartelloni bianchi senza scritte viene arrestata e la sapete una cosa incredibile gli organizzatori delle manifestazioni sono spesso costretti a pagare gli stipendi extra dei poliziotti impiegati per gestire l'ordine pubblico le parole in russia sono illegali è favorevole l'invio di armi io sono una pacifista convinta e odio le armi ma l'ucraina in fiamme come si poteva lasciare un paese inerme senza intervenire senza dargli la possibilità di difendersi ora però la questione è un'altra nel ventunesimo secolo qualsiasi tipo di operazione militare può essere risolta per mezzo delle trattative di negoziati a livelli superiori una guerra così con così tante vittime è una cosa inaccettabile nel mondo in cui viviamo lei vive ancora mosca da pochissimo tempo sono dovuta scappare per motivi di sicurezza soprattutto per proteggere mio figlio per noi sua mamma è un riferimento di giornalismo indipendente cosa pensano in russia di lei le dirò soltanto una cosa per essere chiara i russi non sono abituati a pensare roberto anna politica tra l'altro sapeva che sarebbe stato ucciso però poi sapeva quello che rischiava però lei continuata a denunciare dicendo anche che denunciare non è sputtanare la patria no però poi in realtà il suo esempio muore un po con lei nel senso che oggi in russia nessuno può denunciare quello che sta succedendo nessuno può neanche pronunciare la parola guerra quindi c'è stato un arretramento pazzesco perché c'è molta paura è giusto esporsi e poi essere arrestati avvelenati ma soprattutto vedere la propria famiglia pagare perché c'è anche questo per cui oggi se ti esponi la prima cosa che accade che ti prendono la famiglia era il terrore di anna politoscaia che non solo temeva la morte ma temeva la delegittimazione e lo racconto sempre poco prima di morire lei sapeva di un piano di sequestro avrebbero narcotizzata fotografata in situazioni intime con dei soldati e il titolo dei giornali di gossip il gossip spesso è squadrismo avrebbe titolato di mattina attacca i nostri soldati la sera se la spassa con loro e lei era terrorizzata dalla delegittimazione quando arrivano i proiettili significa che non ce l'ha fatta la delegittimazione l'hanno dovuta fermare ma attenzione la cosa diciamo particolarissima è che quando lei è stata per esempio avvelenata in aereo in occidente ci fu molta diffidenza si vabbè adesso hanno messo il budino avvelenato non ci fu solidarietà se non da pochissimi uno dei maggiori giornalisti del guardian luke herding definisce la russia stato mafioso perché ha le regole mafiose ti tocco i familiari faccio qualcosa e non lo dico anzi lo nego come grandi capi mafia tutti sanno che c'è una firma sull'omicidio ma il potere il totale arbitrio cioè io non prendo neanche la responsabilità del mio atto ecco perché diciamo il dibattito in questo senso è fondamentale cioè voglio dire prima ho ascoltato il tuo editoriale che condivido molto quando hai detto attenzione qui c'è spazio per qualsiasi dibattito fermarlo significa arretrare proprio sul piano della democrazia e sai pensavo a quando i grandi del passato hanno intervistato penso biaggi che intervista buscetta ennio remondino che intervista badalamenti zavoli che intervista i brigatisti con l'italia ancora sconvolta per i cadaveri di innocenti ammazzati sai quale penso sia la differenza che quando si sceglie di intervistare buscetta è una questione anche di grammatica e di tempo i talk sono molto veloci e quindi non riescono a dare diciamo a volte l'organizzazione secondo me sintattica che serve quando io ascolto gli intervisto buscetta lo isolo dalla grammatica del programma nel senso in cui io ascolto un testimone dov'è che rischia la propaganda quando l'eventuale buscetta gli chiedo di spiegare il mondo insieme agli altri esperti cegli do un pari valore scientifico certo professore e in quel caso una voce che non deve essere la voce degli esperti che aiutano a casa a dare strumenti ma testimone è stato giusto secondo me poter arrivare a intervistare il numero due del cremelino cioè il problema è stato come esatto l'avro il problema è stato come e soprattutto che non è stato come l'intervista che puoi fare per testimoniare come se intervistate gheddafi certo intervistarlo non significa dargli consenso non significa sputtanare il tuo spazio democratico lo diventa se a gheddafi gli chiedi di spiegare il mondo insieme ad altri io credo che questo in questo momento sia la grana che ci ci rende scivoloso ma non credo che non farlo cioè non intervistare queste persone sia una cosa sana tutt'altro è fondamentale guardare il loro punto di perché non solo ma perché loro parlano e la nostra mediazione può servire diciamo a decriptare il loro linguaggio a spiegare a interpretare quello che loro stanno dicendo e allora prima di arrivare diciamo a falcone ti voglio chiedere invece del dibattito cosa viene fuori nel dibattito pubblico italiano tra quando uno dice io vorrei fare un ragionamento complesso no io per esempio adesso ho detto che il Donbass esiste al 2014 domani qualcuno dirà che il mio ragionamento putiniano no però io ti dico sono a favore di dare le armi agli ucraini per difendersi e allora non sono più putiniano sono servo della nato allora tra in questo questo dibattito pubblico italiano cosa ti colpisce cioè siamo ci sono sempre le curve no beh ma questa è la dinamica la complessità sparisce dal dibattito no sull'ucraina o viene visto subito come sospetto lo capisco io ho cercato in questi mesi di orientarmi andando da chi osserva queste dinamiche da molti anni masha gesson per esempio la dissidente più importante al mondo in questo momento ha cacciato dalla russia per la sommo sessualità rischiato la vita gli volevano portare i miei figli e plot chi taras kuzio sono i più grandi storici ucraini quindi loro stessi la prima cosa che ti dicono è non c'entra la nato nel senso che c'entra la democrazia il terrore di putin è che ucraina e bielorussia non ci dimentichiamo i movimenti di resistenza in bielorussia stanno trasformando l'est se arriva la democrazia da loro arriva la democrazia mosca allo stesso tempo io rispetto molto e meritano rispetto chi sta lavorando per la pace c'è chi in questo momento si sta interrogando sulla pace il pacifismo non è mai una posizione comoda non è una posizione arrendevole anche io sono d'accordo che la l'ucraina non può stare senza armi anche io sono d'accordo che bisogna sostenere la resistenza ucraina non si l'ucraina le parole della figlia di anna politoscaia l'ucraina in fiamme allo stesso tempo faccio un ragionamento velocissimo cioè penso a quello che è stato il riferimento nel mondo del pacifismo cioè penso al matt ma gandhi che parla di non violenza come mettere il proprio corpo lui non mangiava resisteva rischiava la vita si mette davanti ai proiettili cioè la non violenza non è un atto passivo certo è anzi anzi usi la violenza ma sul tuo corpo assolutamente perché mostri che quali sono le conseguenze della violenza su di te è un modo anche di occupare uno spazio di mettersi lì e non spostarsi a rischio della propria vita esattamente quando infatti pakistan e india stanno dividendo lui viene ammazzato per la scelta di pace abbiamo parlato di anna politosca via della sua consapevolezza del rischio di morire c'è un po un collegamento con giovanni falcone un altro uomo coraggiosissimo no di cui tu racconti il tuo libro c'è un uomo che ha sempre saputo il rischio che correva ma non si è mai fermato anche se i segnali erano inequivocabili perché ma sai io l'ho proprio intitolato il romanzo solo il cora solo è il coraggio perché falcone sceglie di essere coraggioso questo è fondamentale nel senso che tu scegli la strada che permette di conservare il senso che hai dato alla tua vita il problema non è avere paura mai e tra l'altro lo diceva lui stesso in diverse interviste la paura anzi è sana ti dà il segnale che c'è qualcosa che devi fare per proteggerti e la codardia il problema falcone stiamo parlando di un genio del diritto adesso che sono i 30 anni dalla strage di capaci ci rendiamo conto di quanto capace fosse come investigatore nel libro io cerco anche di raccontare da dove arriva cioè rocco chinici il suo maestro arriva a dirigere l'ufficio istruzione aveva un ammazzato cesare terranova che era arrivato perché aveva un ammazzato chetano costa che era arrivato dopo che aveva un ammazzato pietro scaglione era quella la forza di cui erano forniti cioè quella di la strada era percorsa da sangue cioè non potevano mollare perché per andare avanti su quelle inchieste ed erano inchieste sul capitalismo criminale cioè hanno cambiato il mondo è cioè questi uomini hanno dato strumenti al mondo per reinterpretare il concetto mafioso che non si trattava di bande di subburra di ghetto si trattava di capitalismo d'avanguardia con delle regole la forza di falcone comprendere il mondo delle leggi e il mondo delle regole senti l'ultima domanda che ti faccio riguarda un altro coraggioso cioè zelensky anche su di lui ci sono diciamo un po chi lo considera un uomo diciamo troppo attento alla comunicazione un uomo che diciamo concentrato diciamo sulla 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 affermazione a tutti i costi a costo il proprio popolo tu che ne pensi di zelensky è un abbiamo parlato di anna politkoska abbiamo parlato di giovanni falcone il senso del coraggio ti colpisce il coraggio di zelensky molto diverso rispetto ovviamente alle storie di falcone di politoskaya anche perché lui si trova in un percorso diverso cioè non prende scelte come come nel caso di politoskaya e falcone dall'inizio che lo pongono in una posizione di rischio o di critica al potere parlo della politoskaya zelensky arriva con un grande consenso è un interlocutore dell'imprenditore ucraina la sua forza certamente è stato il coraggio innanzitutto di non andare via si aspettavano che andasse in esilio e che governasse dall'esilio questa è la potenza della politica probabilmente una mossa che cambia completamente il senso della resistenza ucraina completamente no perché se tu pensi invece in afghanistan come no il leader afgano è la prima cosa che fa scappa con i i soldi no è la prima cosa che succede anche in siria cioè in iraq il gli uomini anti anti saddam in esilio gli uomini anti assad in esilio zelensky decide di rimanere e cambia completamente la percezione quindi il suo coraggio è farsi testimone e ultima cosa attenzione aprire le porte dell'ucraina ai reporter tutti i reporter del mondo è importantissimo perché bucia quello che noi sappiamo su bucia perché è qualcosa che ci raccontano 500 mille telecamere e tacquini indipendenti la russia si aspettava che lui lasciasse soltanto alcuni alcuni suoi uomini alcuni reporter che dovessero infiltrarsi i reporter come succede sempre di guardian e times invece no ha aperto tutti e questa è la differenza grazie è solo il coraggio giovanni falcone il romanzo per buon piani grazie a roberto saviano ci vediamo presto presto